A vigilare che le aziende rispettino le norme sulla sicurezza nei cantieri, nelle fabbriche, negli uffici, è l'Ispettorato Nazionale del Lavoro che dal 2017 riunisce le attività di controllo prima svolte da Ministero, IMSS e INAIL, un'agenzia che fa capo al governo e che ha meno dipendenti di quelli che dovrebbe avere. Fra chi svolge mansioni amministrative, dall'esame delle buste paga alla regolarità dei contratti, e chi ha funzioni tecniche, controllando se gli operai portano il caschetto o che i ponteggi non traballino, mancano all'appello più di 2.600 ispettori. Questa cifra si ricava incrociando quanto previsto dal piano di assunzioni, che contempla quasi 7.800 impiegati, e quelli effettivamente in forze. Con il crollo di Firenze e i suoi morti si sono rieccesi i fari sui controlli e di conseguenza su chi è chiamato ad eseguirli, cercando di limitare infortuni e lavoro nero. In virtù di un concorso bandito dal precedente governo, l'anno scorso 850 nuovi ispettori hanno preso servizio e il nuovo personale è stato assicurato permetterà di aumentare i controlli da 70.000 a 100.000 l'anno. Il buco nella pianta organica però resta. La possibilità di assumere chi aveva partecipato all'ultimo concorso scade a maggio e, dicono i sindacati, bisognerebbe far scorrere in fretta le graduatorie. Ma forse non basterà perché tra le rivendicazioni ci sono anche gli stipendi. I più bassi tra i dipendenti pubblici delle amministrazioni centrali sostengono sempre i sindacati, che scoraggierebbero i candidati a partecipare ai bandi e spingerebbero, a chi il posto già ce l'ha, a cambiare ufficio. Simone Spina, Sky TG24